il tecnico della mia nazionale mario valentini dice che il lavoro paga sempre e ha assolutamente ragione la fatica restituisce sempre qualche cosa il grande sforzo di un attimo non porta non porta a nulla se lungo la strada la fatica non ti regala anche piacere allora vuol dire che stai seguendo più la tua ambizione che la tua vera passione se invece andare avanti sudare faticare affrontare una salita è una cosa che fai semplicemente perché la salita è lì non c'è bisogno di nessun'altra ragione ecco che allora vuol dire che sei spinto dalla passione e ogni giornata diventerà naturalmente una nuova occasione per aggiungere qualche cosina per faticare per sudare per portare a casa quel piacere intenso che deriva da un lavoro ben fatto grazie a tutti